e allora sei dormendo? mi fa piacere che ho mangiato un po' più di ieri, ieri ho mangiato un cazzo praticamente oggi ho mangiato qualcosa di più però sempre un cazzo che ho mangiato poco già immagino va bene dai l'importante è che ti sia sforzato un po' a mangiare e si cuore così almeno ti rimetti un po' su io sto andando a prendere un caffè tutto morto non si muove niente non si muove una foglia e vabbè questa è la settimana piena di ferragosso è normalissimo sono quasi tutti chiusi sono solo io e quello del bar a farci il caffè e a comprare le sirene e vabbè non fa niente avremo modo poi di farci delle vacanze belle tutti insieme quindi un po' ci vuole solo un po' di tempo ma io conto che già l'estate prossima ce ne andiamo cuore facciamo un bel viaggio con la tua compagna che poi sarà mia cognata però la voglio vedere prima io cuore di vedere lo che da me prima vieni a farti un caffè ma vieni a farti un caffè beh quindi dobbiamo pregare pure il perso che venisse a fare il caffè eh vabbè cuore mi raccomando eh ci sentiamo dopo mangia di qualcosa di fresco oggi pomeriggio eh ok per merenda me l'hai promesso me l'hai promesso lo so che me l'hai promesso quindi mangia di qualcosa di fresco beh ci sentiamo dopo coi cino con i fratelli un bacio e un abbraccio forti e un bacio